Trascorreranno la domenica davanti ai cancelli dell'azienda. La mobilitazione dei lavoratori, allevatori e trasportatori della GAM va avanti. Andrà avanti fino a quando non avranno ottenuto dalla Regione certezze sul loro futuro e su quello dell'azienda. Una risposta potrebbe arrivare domani perché proprio per lunedì è previsto l'incontro alla GAM tra i lavoratori e il governatore Frattura, una riunione sulla quale i manifestanti ripongono tutte le residue e speranze. Speranze di poter finalmente ricevere le mensilità arretrate che rappresenterebbero una boccata d'ossigeno. Speranze di vedere riaperta l'azienda come chiedono con forza. Speranze di poter finalmente ricevere le mensilità arretrate che rappresenterebbero una boccata d'ossigeno. Speranze di vedere riaperta l'azienda come chiedono con forza. Speranze di poter credere ancora in un futuro con un nuovo piano industriale e nel frattempo di ottenere la proroga della Cassa Integrazione. Richieste fatte per venire per iscritto dai sindacati da mesi e che dunque ora tendono risposte certe. Il tempo delle promesse è finito. Se domani non ci saranno novità i lavoratori metteranno in atto azioni di protesta clamorose tra cui il blocco della Statale 17 già attuato ma in maniera quasi simbolica qualche giorno fa ma stavolta si fa sul serio. Che clima c'è signora? Triste, non ho mai visto in tutta la mia vita un momento così brutto della mia vita perché non abbiamo niente in tasca, le bollette arrivano e purtroppo non sappiamo più dove sbattere la testa. Sperate nella visita di frattura? Ma io me lo auguro veramente perché con questa situazione non si può andare più avanti. Io penso che lui si deve prendere le sue responsabilità perché ci aveva promesso che questa azienda non la faceva chiudere e infatti ci troviamo fuori in mezzo alla strada. Che cosa gli direbbe? Gli direi al Presidente che in questo momento lo vorrei far stare come sto io in questo momento senza stipendio e senza niente per vedere la sua famiglia e lui come reagirebbe in questa situazione. Allora se lunedì non dovesse venire oppure comunque le risposte non saranno soddisfacenti? Come intendete organizzare? Noi qua non ci arrendiamo. Purtroppo abbiamo deciso che la cosa sarà dura e andremo a occupare non so la superstrada oppure qua e andremo direttamente a Campobasso da lui se lui non viene qua. Io sono 36 anni che lavoro qua, non mi che un giorno, ho da tutta la vita in questo stabilimento. Non vi arrenderete? Io penso proprio di noi anche se sono quasi arrivato. Sto lottando per tutti quelli che devono ancora venire dopo di me, per i nostri figli e quelli che vi seguiranno. Si immaginava una fine così? Mai. Speravo che avevo finito, che erano gli anni più belli a trascorrere per tutti, invece mi sono trovato in mezzo a una strada. Nel corso dell'assemblea che si è tenuta sabato sera davanti all'azienda i sindacati hanno lanciato un appello forte all'unità perché hanno detto solo uniti potremo vincere la nostra battaglia. Ormai il presidente ci deve dare proprio delle date, delle certezze, non può dire sempre va bene, non ci sono problemi, andiamo avanti. Io non posso andare più avanti, anzi colgo l'occasione per dire di convocare subito un tavolo in prefettura con tutti i sindaci perché noi non abbiamo più nemmeno i soldi per pagare le bollette. Qui la gente non sa più come fare nemmeno la spesa. Allora, ripeto, dalla settimana prossima io ho parlato anche col sindaco di Boiano, di andare in prefettura per cercare di vedere come fare per non pagare almeno le bollette in questi periodi che non prendiamo soldi.